A tutti voi, buonasera e fatte bene. Benvenuti all'attuale appuntamento natalizio. Abbiamo dato un titolo al nostro concerto, abbiamo detto venite a Toreus. Abbiamo già dato un po' di meglio all'antologia dell'avvento che con insistenza invoca a Tere il Signore Gesù, che questa domenica a Tere ci invita ad essere gioiosi. Il Signore è bene, noi lo adoriamo e lo adoriamo perché lo conosciamo, lo riconosciamo e lo approfiamo. Lo accogliamo in altri modi, nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella parola, ma anche nei poveri, nei piccoli, nei disolusi. Maria lo adora perché accoglie il mistero che scocchina un po' la sua vita. Lo adorano da Stor, dopo aver ascoltato il credito all'unità degli altri. Lo adorano i tanti, dopo aver cercato la consistenza. Adorare il Signore, lo direi riconosciano e l'accogliano come Signore, come Presidente d'Italia della nostra vita. Ascoltando il concerto, venite a Toreus. Ausrò, come Presidente, buona scuola. Grazie. Grazie. Grazie.